Martedì 5 dicembre, buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, potrei dire anche buonasera visto la giornata presente qui a Forlì in Romagna, davvero uggiosa, buia, triste. Il contenuto di quest'oggi che voglio realizzare in merito alle preoccupazioni che comincio ad avvertire in proiezione Juve-Napoli perché domenica c'è stata un Napoli-Inter abbastanza avvelenata e questo strascico di veleni ho paura che si possa riflettere sulla sfida di domenica all'Allianz Stadium, chiedo scusa, di venerdì all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. Prima di sviluppare ogni discorso, mi raccomando, se ancora non siete siti al canale iscrivetevi, azionate la cappella notifica e magari un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata se questa sarà stata di vostro gradimento. Allora intanto faccio i complimenti a un certo Francesco Biondi che segue evidentemente tutti i contenuti, che si dice tifoso del Napoli ma si manifesta così sportivo dal godere della sconfitta del Napoli perché contro ovviamente il proprio tifo ma la vittoria dell'Inter consente agli stessi di tornare davanti in classifica alla Juventus. Nonostante la vittoria dell'Inter sia arrivata, difficile dire anche in termini meritata, perché la sfida è stata molto combattuta, molto aperta. Il Napoli nel primo tempo tra l'altro ha avuto un paio di occasioni, una clamorosa attraversa colpita da Politano. Insomma, un Napoli che poteva tutto sommato anche essere in vantaggio. Comunque una sfida viziata, l'abbiamo detto ieri, da un gol assolutamente irregolare con il placaggio di Lautaro ai danni di Lobotka, però per Francesco Biondi lo rimenziono, tifoso del Napoli, lui si dice, qualche dubbio mi sovviene, ma è tanto tempo che commenta e l'impressione era sempre stata quella, gol regolare perché non sarebbe così strano perché è l'unico episodio dove bene o male tutti quanti sono allineati sul fatto che fosse assolutamente un gol da annullare. E successivamente ho detto, per me calcio di rigore netto, quello sì di Acerbi su Osimène, ne è addirittura con core della gazzetta, no, per lui invece quello non è un calcio di rigore. Molto strano, davvero. Sportività, piovimi addosso. Ma a parte questo, non vogliamo parlare dell'utente nello specifico, parliamo a carattere generale perché è vero, ci sono stati degli strascichi polemici, c'è stato chi si è lamentato, sicuramente la dirigenza del Napoli non ha gradito l'arbitraggio di massa nella sfida contro l'Inter perché al Napoli non interessa perdere per favorire il fatto che l'Inter riscavalchi la Juve, al Napoli interessa conquistare punti per poter rientrare nella lotta a Scudetto, comunque centrare un posto nella prossima Champions League perché ovviamente è giusto che sia così. Ma cos'è successo? È successo che fronte tifoseria, ne ho lette davvero di tutti i colori, imbarazzanti, lo posso dire candidamente, tifosi che quando c'è qualcosa pro Juve sono sempre pronti ad aizzare la folla evidenziando qualsiasi episodio appunto che avrebbe avvantaggiato la Juve, nella situazione specifica dai danni del Napoli, nessuno che si sia lamentato per quello ma ha proprio così a godimento per il fatto che la Juve è tornata a seconda in classifica e quindi quello è diciamo non potendo il Napoli vincere lo Scudetto secondo loro, quello è la grande soddisfazione di cui si possano alimentare. Abbastanza raccapricciante questo perché ripeto secondo me il Napoli è stato defraudato e obiettivamente credo di averlo rilevato non perché debba dare contro l'Inter semplicemente perché è un dato di fatto ma quello che mi preoccupa sono i veleni che si possono scatenare adesso a seguito della presenza di Aurelio De Laurentiis ad esempio tra i tanti alla serata di Gran Gala del Calcio dove non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma avrebbe parlato con Gravinoa e si sarebbe detto preoccupato per la situazione arbitri anche in vista della sfida di venerdì proprio contro la Juventus all'Allianz Stadium e non si esclude che chiederà un incontro che possa chiedere un incontro proprio per parlare del problema arbitri proprio prima della sfida con con la Juventus questo lo vedremo però è chiaro ed evidente che dopo una stagione dopo una settimana alimentata dal da queste situazioni negative contro il Napoli quindi arbitraggio di massa altamente scadente sono anche curioso di sapere che cosa ci racconterà Rocchi in merito all'arbitraggio di massa che per me è stato altamente scadente e assolutamente incidente nel risultato e questa la cosa quanto di peggio si possa dire di un arbitro perché un arbitro proprio in quanto tale dovrebbe arbitrare libero arbitrio dovrebbe essere arbitro di una partita e quindi non decidere il risultato ma rilevare i dati oggettivi del match e quindi far sì che a seconda delle varie situazioni vinca o meno una squadra o l'altra non determinarlo invece con goli irregolari o calci di rigore negati o espulsioni negate o espulsioni eventualmente date ma è stato tutto un patatrac tra arbitro e var chi più ha fatto peggio non saprei ma certamente è stata una debacle e quindi questo si potrebbe poi riprodurre su quello che sarà la sfida Juve Napoli che non è mai una sfida banale non è mai una sfida tra due squadre rivali è semplicemente una sfida tra due squadre rivali nemiche antagoniste per diversi anni negli anni scorsi e per le quali tifoserie è una sfida molto sentita addirittura da osservatorio degli eventi sportivi perché credo che la trasferta credo adesso non ne ho certezza era una di quelle possibili da viettare ai residenti in campagna quindi una trasferta viettata ai tifosi napoletani ecco a proposito di questo io mi pronuncio totalmente contrario perché credo che lo sport non possa prescindere dal tifo poi è chiaro ci sono situazioni che vanno condannate che vanno arginate senza ombra di dubbio ma qualsiasi società sportiva professionistica soprattutto non può prescindere dal tifo perché il tifo è un elemento complementare dello spettacolo un elemento fondamentale nel traino di una squadra ed è anche un elemento di introito quindi è anche una possibilità di incrementare i propri introiti e per questo sono sempre perché le sfide vengano giocate con la possibilità data ai tifosi di seguirla poi sta nell'intelligenza dei tifosi di comportarsi in una determinata maniera sta nella società italiana sta nel al governo trovare le giuste contromisure per riuscire a controllare gli avvenimenti sportivi soprattutto quelli più a rischio ma mi preoccupa perché quando si parla di una chiacchierata avvenuta tra gravina e de laurentis in vista juventus napoli beh sono molto preoccupato alla luce di ciò che è accaduto la domenica prima e mi metto nei panni di colui che sarà l'arbitro e a questo punto non sapendo quale possa essere se sia già stato nominato non sapendo nulla perché mi viene di getto questo contenuto ve lo propongo allo spiego che possa essere un daniele orsato tra l'altro premiato ancora una volta come miglior arbitro italiano perché ci vuole un arbitro di personalità che non si faccia influenzare e che sappia gestire determinate situazioni perché mi metto nei panni di un arbitro che deve arbitrare la juventus è sempre un qualcosa di altamente difficile di coefficiente difficoltà elevatissimo perché sai che se dai un episodio dubbio a favore della juventus sarai nell'occhio del ciclone idem con patate se un episodio dubbio fosse dato contro la juventus e poi non doveva essere confermato c'è il VAR ma abbiamo visto quanto il VAR ad oggi sia abbastanza fallimentare a livello di supporto dato alle decisioni arbitrali perché non interviene quando dovrebbe smentire una scelta sbagliata dell'arbitro o magari interviene per annullare ciò che invece era da ritenersi regolare e qui non può non tornarmi alla mente il bel juventus salernitana della passata stagione guarda caso c'è sempre la juventus di mezzo ci sono le polemiche che stanno continuando post napoli inter ci sarà juve napoli in prospettiva come posso non essere preoccupato ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza juve e speriamo che nonostante tutto le preoccupazioni poi siano soltanto una sensazione e invece possa essere una partita regolare regolamentare e che vinca il migliore ciao a tutti